Venerdì 27, sabato 28 maggio all'hotel Baia Flamina Resort va in scena la conferenza nazionale canali Postural Method che è organizzata tra gli altri da Fisio 12, il luogo dove ci troviamo oggi, luogo gestito dall'amministratrice Giorgia Del Bene che innanzitutto ci spiega che cos'è Fisio 12. Allora Fisio 12 è innanzitutto un centro medico ed è un centro di fisioterapia e riabilitazione. Quindi all'interno della nostra struttura che è aperta dal 2018 ci sono principalmente degli ortopedici specializzati ognuno magari in una parte del corpo diversa, spalla, ginocchio eccetera. Poi abbiamo fisioterapisti, massofisioterapisti, osteopata e in più tutte le figure di rieducatori funzionali che appunto vanno a sviluppare il lavoro che fanno i terapisti quindi dopo la parte manuale subentra anche la fase di ginnastica attiva e per fare questo noi usiamo il metodo canali. Questo metodo canali è un metodo posturale che è nato 40 anni fa dal professore Vincenzo Canali di Parma il quale ha lavorato sempre con atleti di altissimo livello sia nell'ambito del calcio anche e soprattutto dell'atletica comunque lui ha lavorato con atleti che hanno vinto medagli insomma a livello olimpionico e quindi ha potuto testare sul campo che il metodo che utilizza sicuramente è un grande valore. Il Tredunion con Vincenzo Canali è uno dei miei collaboratori che è Agostino Panzani che appunto ha potuto portare qui a Pesaro una grande novità nel mondo della riabilitazione e della rieducazione funzionale che si applica sia nella prevenzione che appunto nel migliorare le performance sportive. Quindi grazie ad Agostino abbiamo conosciuto Vincenzo è nata una bellissima collaborazione e da questa collaborazione appunto è nata anche l'idea di fare la prima conferenza a livello nazionale su questo metodo posturale. è interessante perché parleranno dei ricercatori del Besta di Milano che appunto hanno collaborato negli anni con Vincenzo Canali per rendere scientifico il suo metodo e poi ci sarà Piero Benelli che invece appunto è medico sportivo della Nazionale e lui anche gli riconosce l'importanza e il valore del metodo ci sarà Fabio Fanton che invece rappresenta lo sport delle arti marziali sempre ad altissimi livelli ci saranno dei rappresentanti del CNR di Lecce che hanno fatto anche loro degli studi scientifici in merito al metodo per cui ecco io invito comunque a partecipare all'evento perché di portata nazionale è interessantissimo siamo fortunati che Vincenzo Canali ci ha scelto per appunto mettere in piedi questo evento proprio su Pesaro perché comunque ha ritenuto che siamo una struttura di alto livello che è capace di sviluppare anche eventi di questo tipo e per cui vi aspettiamo il 27-28 maggio in Baia Flaminia, Pesaro.